Negli ultimi 50 anni abbiamo cambiato le foglie e mai le radici. Abbiamo seminato il presente, raccogliendo futuro. Abbiamo scommesso su tempo, persone e passione, guadagnando legami, fiducia, valore. Da oltre 50 anni produciamo qualità e questo noi lo sappiamo bene, perché per capirlo ci basta guardarvi negli occhi. Comparato. Affidabili per natura.